Stefanoni, l'artista di strappo. Il suo nome è sinonimo di polemica, Franco Stefanoni. Alcuni lo considerano responsabile della maggior parte della rimozione di opere d'arte che hanno portato a saccheggi e razzie. Altri lo considerano una persona dotata di una straordinaria abilità nella tecnica dello strappo, che lo ha reso l'unico restauratore in Europa in grado di staccare opere d'arte che dovevano essere protette dai luoghi originali con le garanzie necessarie. Il suo ruolo fu essenziale nella creazione della sessione di arte romanica nel Museo Nazionale di Arte di Catalogna, sito a Barcellona. Quando ho conosciuto la storia di Franco Stefanoni ho voluto scrivere un romanzo sul saccheggio del romanico catalano. La sua storia inizia nel 1850, quando il conte Giovanni Seccosuardo, aristocratico bergamasco, collezionista e amante del restauro, abbandonò la diplomazia e aprì un piccolo laboratorio di restauro. Il conto fece il primo risciutto esperimento di strappo, staccando un frammento diafresco da una cappella di sua proprietà. Alcuni anni dopo, il conte si recò a Firenze con un giovane falegname Antonio Zanchi per insegnare la nuova tecnica di restauro. Le lezioni si esvolsero al piano terra della Galleria Palatina per volontà del Ministero della pubblica istruzione e del direttore del Reggio Galleria di Firenze furono seguite da restauratori che lavoravano nella città toscana. L'episodio, unico nel suo genere, si concluse con una mostra di dieci opere a scopo dimostrativo. In Toscana la tecnica dello striping venne accolta con sorpresa e perplessità. In generale, si preferiva la tecnica del trasferimento su canne che utilizzava Gaetano Bianchi o lo stacco delle parti licie per rimetterlo su intonaco, una procedura che Giovanni Rizzoli aveva già sperimentato con diafreschi di uomini e doni illustri di Andrea del Castagno che decorò una villa pandolfini. Nel 1866, Zanchi, il carpentiere che aveva viaggiato a Firenze come assistente di secco suardo, tornò a Bergamo e aprì un laboratorio specializzato nelle rimozioni diafreschi. Man mano che gli ordini aumentavano, Zanchi dovete cercare un assistente. Giuseppe Stefanoni entrò nel laboratorio per esercitarsi nella pintura e nella pintura di taboli all'età di 22 anni e nel 1877 partecipò con il maestro al trasferimento su tela degli affreschi dipinti da Philip White nella vecchia sede dell'Istituto Stadel di Francoforte. Dopo il suo successo in Germania, Giuseppe Stefanoni si stabilì per conto proprio. I suoi figli, Fedele e Franco, iniziarono a lavorare da molto giovani con il padre. L'attività di Giuseppe Stefanoni e figli ottenne per molti anni un gran riconoscimento e fiducia con commissioni private e istituzionali. Lavorarono in tutta Italia e all'estero, ma fu al fianco di Arduino Colasanti durante la Prima Guerra Mondiale che ricevettero il riconoscimento mondiale per l'operazione di salvaggio di opere di ogni dimensione che vennerò smontate, imballate e trasferite in cisterne improvvisate. Dalle sculture monumentali, come il monumento equestre a Erasmus Gattamelata, smantellato in parti e impacchettato nella speranza di poterlo ricostruire una volta il conflitto fosse finito, alla reliquie raccolte in chiese e sagristie di Venezia o gli affreschi di Tommaso da Modena a Treviso che fu persino ricordato dai giornali straniari come il Times. Ma quando si tratta di staccare gli affreschi si parla di separare dal muro la crosta dell'intonaco in cui li dipinto e contenuto. Quando invece parliamo di strappo parliamo di applicare due strati di panno di cotone sulla vernice con cola organica, con caseina, che una volta asciutta aderisce alla vernice e consente di rimuoverla dal muro. Con l'aiuto di una spatola fai il movimento del polso in modo che il film di vernice sul muro inizia a staccarsi e per mezzo di tessuti incolati venga mantenuto sulla superficie in modo che possa essere trasferito su uno nuovo. Trasferire la decorazione che faceva parte di quel tempio in un oggetto mobile trasportabile. Franco Stefanoni fu la chiave dell'operazione per recuperare gli affreschi romanigi sui Pirinei catalani nell'estate del 1919, organizzati dal board del museo con Puig i Cadafalc e Folky Torres al timone. Grazie per la visione!